Ehi là, siamo insieme a Carlo Vocone e tutto il suo gruppo che si farà sentire! Ammazza che gruppone! Ieri sera abbiamo assistito ad uno show, io direi fantastico, i protagonisti me li presenti tu dopo, 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 dopo. Ora raccontiamolo, questo show è stato veramente un'ovazione, è stato qualcosa di veramente fantastico. Grazie, grazie mille, innanzitutto ciao a tutti, qui Carlo Voconi, tutta la Mambo Company, poi la presentiamo, sono tutti dei personaggi pazzeschi, e niente, ieri è stato un pochino, questa era una cosa che volevo dire prima dello show, ma la diciamo adesso, va bene lo stesso, è stato un po' un fuori programma, perché avrei dovuto ballare sola ieri, oppure con loro uno show magari già fatto, e ho detto perché non mettere un po' d'ansia in più, visto che ne abbiamo, sì, ne abbiamo sempre poca, e quindi abbiamo praticamente preparato qualcosa di speciale un'oretta prima di fare le prove palco, e credo sia andato bene. È andato benissimo, ora non potremo parlare con tutti perché non ce la facciamo, perché questo qui è un messaggio di auguri che dobbiamo mandare a tutto il mondo, e speriamo che questo mondo domani sera partecipi numerosi, siamo già tantissimi. Signori, il 2017 sta per finire, sta per iniziare il 2018, questa sera ancora sul palco, per un altro grandissimo show, che si intitola? Oggi si chiama Vals Candy, è un mix di Bugaloo e Mambo, e per la prima volta lo faremo con due ballerini, nuovi nuovi della compagnia, che sono Silvia e Mr. Poly Pocket, e Riccardo Polelli, ok? E niente, vi aspettiamo. Allora ragazzi, facciamo così un augurio a tutti quanti, domani sera saremo tutti quanti a questa grandissima festa, ok? Bailando Milano Conclus 2017, saluta, ci vediamo l'anno prossimo, arrivederci. Ciao, amore! Arrivederci.